Abbiamo preso una varietà di espressività territoriale, di diverse aree appunto, mettendo anche però ospiti importanti della scena nazionale ma anche ospiti internazionali in un ragionamento in cui non è soltanto la musica protagonista ma sono i luoghi dove questa musica viene realizzata perché come ho avuto modo di dire questa musica ha bisogno di contesti, la musica popolare vive solo in ragione del contesto in cui questa si manifesta senza il contesto diventa un esercizio di retorica estetica che però non ha lo stesso valore, non ha la stessa radice qui noi abbiamo la possibilità di poter indirizzare questo progetto in una dimensione anche di sviluppo più ampio e credo che sia importante proprio per tutto il paese, per tutta l'Italia e non solo pensare che la musica possa aiutare per esempio a valorizzare i paesi dell'Appennino anche ad evitare forme di spopolamento, attraverso la musica si possa ricreare quella continuità di esperienze di vita che danno a questi luoghi quel fascino eccezionale che da sempre tutti gli artisti ma io voglio ricordare agli inizi dell'Ottocento c'è un grandissimo compositore francese viene in Abruzzo per scoprire i canti popolari abbandona la sua esperienza di composizione a Roma e si trasferisce in Abruzzo per andare a cercare i canti popolari questo è stato fatto da tantissimi musicisti, compositori, poeti l'Abruzzo è stato sempre questo terreno elettivo e credo che quello che noi vogliamo proporre essenzialmente è questo questo modo di generare un'attenzione per la musica in modo più completo non soltanto un'esperienza limitata, non soltanto un'esperienza soltanto estiva ma qualcosa di più importante che possa avere una continuità anche nei prossimi anni